Musica Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV 24. È partito alle 8 di ieri mattina il presidio che ha visto circa una trentina di studenti e residenti riunirsi all'isola della Giudecca, Venezia, per impedire una procedura di sfratto a carico di una ragazza di 25 anni. Stando a quanto riferito dagli attivisti, l'inquilina è una studentessa universitaria che non riuscendo a permettersi il pagamento dell'affitto avrebbe deciso di occupare un alloggio di proprietà dell'Ater. Abbiamo portato la nostra solidarietà ed evitato che avvenissero sgombero ai danni di una giovane donna che vuole soltanto poter studiare in questa città, spiegano i rappresentanti del collettivo universitario LISC presenti sul posto assieme ad esponenti dell'Assemblea Sociale per la Casa. La mobilitazione è legata a una serie di iniziative sul tema della residenzialità che si rifanno al movimento delle tende in piazza nato a Milano la scorsa primavera in segno di protesta contro la generale difficoltà, in particolare per gli studenti, a reperire alloggi a prezzi accessibili. Nel pomeriggio si è poi tenuta nell'area di San Basilio un'assemblea pubblica nel corso della quale il collettivo LISC ha dichiarato che per rispondere alle esigenze degli studenti è prioritario difendere il diritto allo studio e promuovere la residenzialità mentre gli Atenei e l'amministrazione veneziana continuano, dicono, a costruire studentati di lusso costosi e non integrati con il tessuto cittadino. Si tratta di un problema particolarmente sentito a Venezia dove la popolazione residente continua a diminuire a vista d'occhio con il progressivo svuotamento del centro storico a cui si contrappongono un elevato flusso di turisti e l'abbandono di molte case pubbliche. Il prossimo incontro sul tema, lanciato dall'assemblea pubblica per la casa è stato fissato per il 26 ottobre in Aula Santrovaso. L'obiettivo è prendere azioni che mettano al centro i bisogni della cittadinanza a partire dalla casa, ma anche scuole, servizi e sanità pubblica. Ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Querovas, in provincia di Belluno Manuel Favaro, nato a Treviso e residente a Salzano. La vittima è uscita di strada con il proprio camion dopo aver investito un cervo mentre percorreva la provinciale 1 all'altezza della località Marziai. L'animale, anch'esso deceduto nell'incidente, sarebbe finito nella cabina di guida causando il roversciamento del veicolo che ha poi concluso la sua corsa contro gli alberi all'esterno della carreggiata stradale. L'allarme è stato lanciato attorno alle 7 di mattina. Sul posto sono sopraggiunti poco dopo i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso del 118 e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per la ricostruzione del sinistro. Il personale sanitario ha tentato il possibile per salvare il conducente, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Cambiamo l'argomento per parlare dell'arresto di un latitante trovato dai carabinieri mentre si trovava in un notto campeggio di Marghera. L'uomo, un cittadino moldavo destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dall'autorità giudiziale del suo paese, è stato colto in flagranza di villeggiatura nella mattinata di domenica scorsa. I militari, a seguito di una segnalazione di alert del sistema alloggiati, sono intervenuti nel camping e dopo aver individuato il sospettato all'interno della struttura ricettiva, lo hanno condotto in caserma per ulteriori accertamenti, scoprendo che doveva scontare quattro anni di reclusione per aver commesso un tentato furto in un'abitazione nel 2021. L'uomo è stato quindi accompagnato al carcere di Santa Maria Maggiore in attesa dell'estradizione. Aveva generato il panico nella notte tra venerdì e sabato scorso, rompendo a calci e pugni il vetro del portone di un palazzo in corso del popolo, suonando insanguinato a tutte le porte nel tentativo di cercare un riparo in cui nascondersi dopo un pestaggio avvenuto probabilmente per motivi di spaccio. I poliziotti però sapevano dove rintracciarlo e lunedì verso le 13 sono riusciti a dare un riscontro all'appello di aiuto che sabato mattina gli inquilini avevano rivolto alle forze dell'ordine. L'uomo con precedenti per droga è stato fermato nei giardini di Via Piave mentre tentava di vendere una dose. Lo spacciatore, dopo essere stato identificato dalla polizia coordinata dalla squadra mobile, è stato scoperto irregolare sul territorio. Per questo motivo, dopo i riscontri dell'ufficio immigrazione con il contributo della polizia locale e dell'arma dei carabinieri per l'accompagnamento, ieri è stato trasferito al centro per il rimpatrio di Ponte Galleria a Roma dove vi rimarrà in attesa di rientrare nel suo paese. I risultati esposti confermano l'importanza che la polizia di Venezia e il questore ripongono in un assiduo attività di controllo sul territorio della provincia realizzata grazie anche al contributo sinergico delle altre forze di polizia in particolar modo nella delicata zona di Via Piave a Mestre. E restiamo proprio nella zona di Via Piave a Mestre per parlare del provvedimento preso nei confronti del bar 808 di Via Sernaglia. A seguito di una serie di controlli, infatti, le forze dell'ordine hanno scoperto che il locale era diventato luogo di abituale frequentazione di soggetti pregiudicati senza fissa dimora nonché punto di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento di sospensione della licenza di attività valido per dieci giorni è stato notificato questa mattina dagli agenti della questura di Venezia al titolare del bar. I mirati controlli effettuati negli ultimi mesi presso il locale spiegano dalla questura hanno infatti permesso di cogliere diversi soggetti in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti tra cui Eroina e Ashish destinate a clienti della zona che avevano eletto il bar 1808 quale punto di riferimento per il reperimento della droga. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi e concludiamo come di consueto con lo sport. L'Umana Reier dovrà rinviare ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale in Euro Cup. Grazie a un'ottima performance di squadra la Puel Shlomo Tel Aviv riesce ad espugnare il taliercio vincendo con un 81-97 finale. L'Umana Reier tornerà ora in campo da capolista imbattuta in campionato nel derby di domenica a Treviso mentre sarà di nuovo in casa in Euro Cup martedì 24 alle ore 20 contro la Juventut Badalona. Ma sentiamo ora il commento post partita del coach Speyer. Innanzitutto congratulazioni all'Apoel per la meravigliosa seconda parte di partita hanno fatto una gran partita e certamente noi abbiamo avuto delle difficoltà dal punto di vista difensivo soprattutto nel secondo tempo perché dal punto di vista offensivo le statistiche parlano chiaro che abbiamo avuto buone percentuali anche i 21 assist quindi loro hanno sicuramente fatto un secondo tempo straordinario dal punto di vista offensivo e di percentuali non hanno praticamente mai sbagliato un tiro però noi potevamo fare qualcosa di meglio in difesa non siamo mai riusciti a trovare un quintetto che potesse dare continuità a ciò che stavamo provando a fare. Era l'ultima notizia di oggi vi lascio ora con i prossimi programmi di Caffè TV24 e vi auguro una buona visione.